Grazie a tutti il titolo di scopo cananteo, e l'interazione di testo, a partire di testo del concetto. Come si lo senti a lui, guarda di testo, guarda di testo, guarda di testo del concetto. E l'altra è un'altra. e non c'è un'altra cosa, che viene in pienso il consigliere oggi. Poi, ma incongruzione, che è un'altra cosa, che è un'altra cosa, un po' di chiarità. Ancora prima avete visto e poi probabilmente, ahia, dipende in maniera che c'è una differenza con il successo oggi. La condizione è, affinché a dire il mondo che è nostro, abbiamo sempre la buona attitudine di queste delle potenze, delle loro cose che ci interessa, perché il suo emendamento è stato da comprare, come molti diciamo, favorevole sia dall'ordine della tecnicità, sia dall'ordine della tecnicità, sia dall'ordine della tecnicità contante, però questo partire non è stato un emendamento originale che ha presentato la Commissione, perché su questi emendamenti, proprio in realtà, questo del Stato Unito, delle geste, non pubblico tra gli scettatori, ovviamente, però proprio una delle geste che dicevano cose non sanate in giro, quindi l'eventamento che abbiamo oggi in Consiglio Comunale, e che probabilmente qualcuno che il Stato Unito non ha nemmeno detto, non è più questo sul quale i famosi 14 membri della Commissione hanno operato e avremmo raggiunto, secondo tutti, un risultato egoniante, ma è molto, molto, molto ridotto, anche di la sottolineazione di un bel senso del valore, o di un bel amico, diciamo, del valore, che non si vuole accercare di incidere su questi emendamenti. È ovvio che è anche questo che aggiunge poi anche una sorta di, come si diceva, di strumentalizzazione che cerca di far passare i medici del Comitato dove tutti, diciamo che non è struttura alla famiglia e a tutto c'è una scelta che abbiamo fatto, non si è con attività, 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 non si è con attività. Quindi quello che sta mattina ha fatto il Consigliere del Consigliere, in quanto Presidente della Commissione non è stato con l'indicare dei medici del Consigliere, avvocato a sé, un diritto che probabilmente non ha, che non è che il Consigliere del Consigliere del Consigliere fa una cosa del genere. Qui non ha fatto altro che cerchire, almeno per il suo organismo di dire che si potrebbe sottostare una cosa diversa, cerchire una richiesta fatta dalla Sindaco a tempo di una direzione che non ha posto per l'impegamento che la Commissione aveva preparato e cercare di trovare, così come abbiamo parlato tutto tra l'altro, mentre tra l'altro c'era un problema tecnico di certe questioni di diritto, di cercare di interire, al primo incerto, immaginato a ciò che ci dice anche per l'articolo 165, il risalpesto 1, che è ordinamente di essere trovati, una relazione di diritto, quindi cercare di vedere quelli che sono di diritto la Commissione, in una versione di diritto, ovviamente non è. Non dobbiamo mettere un diritto di Chaco, anche lui, e che Chaco non avrà, questo è stato un impegno di tantissimo, in conseguenza della maggioranza che è la presa. E' ovvio che il diritto del Presidente della Commissione, i comitari e i professori, come anche i suoi cittadini, i suoi amici a fare il loro ruolo, il loro lavoro, non vogliono fare, quindi non sono altre domeniche a me, che tanto meno è uguale a quello che è piaciuto tra l'altro, dove ci è il Presidente. Tornato al Parlamento, il Starele favorito dei miei, e grani, perché il Starele sono sulle seconde che c'è avendo il Presidente, quindi non su questo da un migliorimento, non ha più il fatto quello di quattro e quattro. Quindi, che già non E per questo aggiungiamo che in una rete orizzontano, diciamo, direzione sulla relazione di sindicato, cioè a seguito della relazione di sindicato, dell'organo di sindicato, è spiegare che c'è un favorevole, quindi diciamo anche questo, il conto osnomica per sentire qualcosa, solo che ci sono i masi di valori. E per questo aggiungo, anche se non. un'azione di una copertina di una città di un'azione di una fluida di un'azione di un'azione di un'azione di un'azione di un'azione di polvere. Una nuvito di una cosa, non è mai mai più significato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.